Quindi dici facciamo questa pazzia, perché i prezzi erano fuori, apriamo questo ufficio, se va, va, se no pazienza. E andò benissimo perché aumentavano le vendite dei tour, la gente veniva, cioè la gente, gli italiani ancora hanno bisogno del luogo fisico. Inizialmente quando è aperto ci sono stati dei problemi che hai incontrato oppure è sempre andata tutta liscia, cioè tutto liscio? Allora, problemi che ho incontrato all'inizio proprio, quando dovevo andare a parlare con i bootstop per fare gli accordi, no? Perché l'obiettivo era, io ti porto il turista, tu o non mi fai pagare il cocktail o me lo fai a un prezzo minore, perché dovevo motivare il turista a venire con me. È chiaro che il rooftop ti diceva ma chi sei, ma che vuoi, ma chi diceva. Quindi fondamentalmente ti mandava a quel paese, no? Perché poi a New York c'è tanti che hanno mille idee, la gente manca ha tanto voglia di ascoltare. Però credo che il momento diciamo in cui poi il destino, perché io ho iniziato a fare la guida, ho preso i testi di nome in guida, ho iniziato a fare la guida turistica, quindi all'inizio facevo tutto io. Lì avevo due strade davanti a me, o continuare a fare la guida per sempre, e guadagnavi bene perché ti riempi in puma, oppure cercare di scalare, quindi investire e avere guide che lavorano per te, magari guadagni di meno, ma scali, aumenti il valore del tuo brand se un giorno lo vuoi vendere. E io ho iniziato insieme a altre persone, le altre persone decisevano di continuare a fare, quindi ancora lo fanno, io disse che voglio scalare. Cosa fece aprir un ufficio a Times Square? Cosa che tutti mi sconsigliavano, perché dicevano ma chi ci va ormai nell'ufficio? Non è che i Booking e Expedia hanno un ufficio a Times Square. Io però dissi, guarda, non lo so se ci vengono, ma sono sicuro che se apro l'ufficio la gente pronota di più i miei tour, perché ti dà consapevolezza, la gente si fida, anche il brand aumenta di valore. Quindi dici, facciamo questa pazzia, perché i prezzi erano fuori, apriamo questo ufficio, se va, va, se no pazienza. E andò benissimo perché aumentavano le vendite dei tour, la gente veniva, cioè la gente, gli italiani ancora hanno bisogno del luogo fisico. Quando io ho aperto nel 2014 e 2015, mica tutti andavano online. Io l'ufficio l'ho aperto nel 2016. Ah, quindi arrivavano anche i clienti non da Facebook o dai social? La maggior parte erano dai social, però eravamo il passeggio, però la maggior parte era dai social. Ok. Che venivano, ah, fammi andare a vedere l'ufficio, è ordine. È un punto di appoggio praticamente per loro, quindi una sicurezza in più. Una sicurezza, però l'offline è un grande strumento poi di marketing, di fatti, che tu quelle spese di quell'ufficio le recuperi poi vendendo di più online. Chiaro. Quello fu un passaggio importante per consolidare il brand e la fama, no? Perché in Italia se di ciò ho aperto la sede a Times Square. È tutto oggettivo, c'è sempre? Sì, è sempre lo stesso. Quanto cosa affittare un ufficio a Times Square, se si può chiarire? Sì, sì, guarda, dipende. Stai dai 5 ai 10.000, per la metratura che diciamo c'ho io, però devi stare in una traversa, non proprio al 100. Di che metratura si parla? Eh, metri non lo so, però ecco, come... che saranno? Un 50? 50 metri quadri, sì, sì. C'ho tre scrivanie, dove ovviamente avviamo i turisti, e un back con un bagno dove ci sta un'altra scrivania. Vabbè, comunque dai, pensavo di più, è onestamente abbastanza... Sì, questa è la cosa interessante, che però in Italia magari uno pensa che costa di più. Ah, infatti. E quindi ti dava ancora maggiore... Il cavolo, un ufficio a Times Square, come se la dilla si serve. Magari pensano, ah, perché poi c'è quello... E quindi... Che comunque già inizialmente non guadagnavi solo da quello, ma anche dalla monetizzazione? No, no, no. Ok, quando è che è iniziata? Perché ho visto che comunque sei arrivato a fare dei bei guadagni. Col Covid ho iniziato a monetizzare... Cioè, perché prima non si poteva su Facebook? Facebook ha iniziato a monetizzare i video, penso, nel 2017-2018. Ok. Mettendo come YouTube i mid-roll, cioè le pubblicità... In mezzo ai mid-roll. Io, però, l'avevo sempre... non me ne fregava, perché io volevo utilizzare la mia azienda. Poi quando è iniziata il Covid, quando ho cercato di trovare delle fonti alternative di guadagno, visto che l'agenzia era chiude, ho detto, vabbè, proviamo a mettere le pubblicità e poi è andata bene. Top. Quanto sei stato chiuso durante il periodo del Covid? Si parla di anni? Le frontiere sono state... ma non io, la frontiera... Sì, sì, certo. Due anni e quasi. E due anni come... ah, come si faceva a mandare avanti? Ho visto che te subaffittavi l'ufficio? A un centro Covid. Ok. Cioè, quindi diciamo ti sei un po' adattato? Sì, tutti ci siamo adattati in tutti i settori. Ma sei resistito? Tanti hanno chiuso patenti, per l'immagine. Sì, sì. Non hanno retto il colpo. E comunque il settore del turismo è stato il più colpito. Sono esistito perché il turismo è un settore, diciamo, non aveva una... non ho una struttura pesante. Ormai quando... sento quelli che dicono c'è un'azienda con mille dipendenti, dicono, ah, poveraccio... Cioè, il mio ideale è avere un'azienda super leggera, pochissimi dipendenti, che fattura sempre di più. Quanti siete adesso? Beh, di fissi in ufficio sotto le scrivanie, quindi... Dovr. Vieni, devono esserci almeno due persone fisse. In basta stagione magari ce n'è una. E poi ci sono le guide, poi ci sono gli autisti dei bus con i bus. Perfetto. Tutti questi dipendenti sono italiani, a parte gli autisti, immagino? Non tutti, non tutti. Poi c'è ovviamente chi mi aiuta sul campo digitale, quindi nel marketing, chi si occupa delle campagne pubblicitarie, chi fa le traduzioni perché ho una pagina anche spagnola. Beh, insomma, comunque è una bella squadra, te la sei fatta, eh? Sì, sì. Però io la considero un'azienda che nasce con l'idea di essere leggera.